Presidente, accetti la mia provocazione. O lei è una persona incosciente o è una persona saggia e razionale. Mi riferisco al fatto che due anni fa ha preso questa società dalle macerie e l'ha portata in serie D. Io forse sono una persona incosciente, guarda, perché io poi dopo molto collaboratori, io sono incosciente, quelli che ho attorno ragionano, mi aiutano in questo senso, perché io faccio più le cose di cuore che ponderate. Fortunatamente ho tanta gente che mi aiuta che a differenza di me fanno altro, quindi sono fortunato in questo senso, però io le faccio specialmente di cuore. Va bene, a questo proposito le posso chiedere una domanda diciamo banale, ma molto significativa. A chi dedica questa vittoria? Non posso dedicarla a una persona solo perché ho tante persone da ringraziare, ho così tante persone da ringraziare che non mi basterebbero due giorni per ringraziare un po' tutto, tutti i collaboratori, tutte le situazioni, questo è tutto a livello di amatoriale praticamente, mi danno tutti una mano e sponsor in primis, perché qui se no non è che sono un presidente che posso prendere una squadra come voglio, cioè qui è tutta una questione di sponsor, quindi sponsor perché se no non poteva esserci questa cosa. E poi forse un pochino a mia moglie che gli ho tirato via tanto di quel tempo, perché mi piace e poi alla fine mi sta assistendo anche, l'ho anche coinvolta, e mio figlio che ha sofferto con me fino all'ultimo minuto e poi mi ha fatto anche veramente emozionare l'altro ieri quando abbiamo vinto l'ultima partita, mi ha fatto veramente far venire giù la lacrima. Va bene, grazie. So per esperienza che un presidente è cauto nel fare i nomi, ma mi faccia uno strappo alla regola, mi indichi un nome fra tutti che l'ha sbalordita? I ragazzi, intendiamo dei ragazzi, dei giocatori. Come vuole? No, io non ho un nome, non ho qualcosa di eccezionale, non ho qualcosa. Non necessariamente dal punto di vista calcistico, in generale. Io ho l'altro presidente Gianfranco Abbati che mi dà una mano, lui è il presidente dell'Accademia Calcio, quindi adesso siamo un tutt'uno e devo dire la verità, lui è molto cauto, l'inverso di me, lui fa le cose ponderate e l'ho coinvolto in una cosa, non lo so, l'ho trascinato praticamente in questa cosa e lui un pochino mi ha sbalordito, poi si è messo e mi sta dando veramente un grande aiuto in tutto, in tutto. Quindi è per lui, lui mi ha sbalordito sotto un punto di vista che a un certo punto non ci avrei creduto, invece si è fatto trascinare in questa cosa e sono contento. Va bene, adesso le faccio due domande in una. Abbandoniamo il campionato di eccellenza, pensiamo a quello di Serie D. Allora, che cosa si aspetta dalle istituzioni e dagli imprenditori locali? E questa è una domanda. E poi che cosa promette ai tifosi e che squadra ha intenzione di costruire se farà una rosa con giocatori locali come ha fatto il Villa Biagio lo scorso anno? Quello guarda, assolutamente, noi vogliamo fare una rosa con giocatori locali. Poi noi dobbiamo puntare sui giovani, assolutamente, come abbiamo fatto quest'anno. Noi non abbiamo vinto il terneo di eccellenza, non è che abbiamo fatto chissà che cosa per poterlo vincere, perché noi abbiamo avuto un budget, l'abbiamo rispettato, non è che siamo fatti prendere la mano, assolutamente. Forse è la crescita dei giovani nostri che ci ha portato anche a questo traguardo, assolutamente. Io, prossimo anno, poi in Serie D ce ne sta anche un in più di giovani. Speriamo che ancora ce ne siano molti da mettere dentro. Io sono convinto, perché questi ragazzi migliorano giorno per giorno e stanno crescendo. È la nostra fortuna, io credo che sia la nostra fortuna. Poi prometto che allestiamo una squadra, dobbiamo allestire una squadra per giocasserla con tutti e tranquillamente sicuramente non andiamo a fare figuracce. Io su questo ne sono convintissimo che siamo in grado di allestire una squadra competitiva con tutti. L'amministrazione ci sta dando una mano, assolutamente sì, credo gli chiederemo ancora qualcosa in più, però siamo tutt'una, noi, assolutamente, noi siamo abbastanza collegati tra di noi e non è che ci sono screzie, facciamo le cose con loro anche. Ci partecipano tantissimo anche loro a questo progetto, assolutamente sì. Che cosa si aspetta invece dagli imprenditori locali? Come ti dicevo prima, ci hanno aiutato in questa situazione quest'anno, ci hanno aiutato anche l'anno scorso e ci stanno aiutando, quindi gli imprenditori locali chiederemo ancora uno sforzo maggiore, però stanno veramente rispondendo, perché noi è un progetto unico, non è un progetto di prima squadra solamente, quindi è un progetto partendo dal primo ragazzino all'ultimo giocatore della prima squadra, quindi è tutto un progetto intero e credo piace a tutti e quindi stanno rispondendo bene e io credo che mi appoggeranno anche in questa Serie D, assolutamente. Va bene, facciamo i nostri migliori auguri per un campionato ricco di soddisfazioni e ringraziamo il Presidente e a voi la linea.